ciao a tutti benvenuti in un mio nuovo video come potete sentire dalla voce mi sono appena alzata ho fatto la doccia e ho preparato i vestiti da indossare farò un semplicissimo vlog con voi innanzitutto incomincio nel mostrarvi cosa indosserò oggi tutto abbastanza semplice quindi mio solito apple watch la collana del brand mio di mia figlia con tutte le piastrine nostre come anello quello in argento che mi chiedete spesso ma purtroppo non conosco il brand la cintura questa di nunali che non mi ricordo se vi ho mostrato in un video è un nuovo acquisto come borsa lei ve l'ho mostrata è una borsa di stadivarius alla quale ho appeso un polar che rimane negli stessi toni per quanto riguarda il pantalone indosserò questo pantalone di tutta però non un pesantissimo di zara e al di sopra metterò questa camicetta barra vestitino che mi avete visto in più video devo dire che la mia camicetta preferita come scarpe indosserò queste di berska che sono vecchissime le ho da diversi anni ma non è che io le abbia utilizzate tantissimo come maglione appoggerò sopra questo giubbino questo l'avevo acquistato dal gheron non mi ricordo il brand il brand è questo e al di sopra indosserò questo maglione che ha il collo alto morbidissimo di berska che è di mio marito e al di sopra indosserò questo maglione che ha il collo alto allora spero che si veda spero che si veda qualcosa ho pochissimo tempo a disposizione perché abbiamo diverse commissioni da fare come palettina ho in mente di utilizzare questa di bottega verde sto utilizzando questa da qualche giorno ho deciso di girare un po le palettine che possiedo per non utilizzare sempre le solite matita e eyeliner però utilizzo solo la matita per intensificare la parte esterna dell'occhio la solita matita per le sopracciglia solito mascara ho trovato questo correttore lo voglio terminare di nabla metterò sempre la mia protezione che utilizzerò come base ho già messo tutte le creme che metto prima di iniziare il trucco questa la metto con le mani necessità dello specchio mi sono portata qui i trucchi per lasciare insomma il bagno libero a mio marito quindi distribuisco questa protezione ne ho ancora parecchia è una protezione 50 insomma sto cercando di metterla tutto l'anno e vi devo dire la verità cerco di metterla anche nelle braccia ovviamente non il fondotinta perché mi stanno venendo delle macchie stranamente delle macchie solari comunque al di sopra metto il fondotinta mi sono dimenticata di portare il pennello per il fondotinta dovrebbe esserci anche qui da federica ma ho pochissimo tempo quindi non lo posso cercare quindi lo metterò con le mani e di queste spugnette vi voglio parlare ve l'avevo mostrate non sono per niente contenta sono piccolissime per carità sono delle spugnette senz'altro nate per il correttore però considerando che io le mani piccole ho un'estrema difficoltà entra giusto giusto il mio dito e insomma non le trovo utili per me queste sono bocciate non le ricomprerei mentre questa spugnetta che mi sembra di aver preso da yes style è ottima io con questa vado a picchiettare pochissima cipria giusto per settare e questa mi piace tantissimo ne ho diverse poi innanzitutto procediamo se no non finisco più la quantità di fondo che metto è questa stamattina abbiamo da fare diverse commissioni oggi è sabato spero di riuscire a editare il video oggi ma insomma al più tardi penso di riuscire a metterlo domani sulla fronte porto la rimanenza perché comunque non mi piace mettere tantissimo prodotto in generale poi questo lo mettiamo dopo e per quello mi aiuterò di questa spugnetta però vi ripeto non è una spugnetta della quale tranquillamente non posso fare almeno ok poi vi ripeto trucco semplicissimo come del resto tutti i trucchi che io vi mostro questo che non ho ancora terminato è un primer occhi di kiko quindi metto lui sto evitando di mettere troppi prodotti sugli occhi perché tutto l'anno ma in particolar modo in questo periodo mi lacrimano maggiormente oggi probabilmente sperando che non piova ci muoveremo in moto perché così riusciamo a fare più commissioni con la macchina veniamo senz'altro rallentati ci vedrete maggiormente non con la ducati ma con il mio motorino perché abbiamo bloccato l'assicurazione come ultimamente ogni anno della ducati perché con il freddo col fatto che ecco mi sono dimenticata adesso mi rendo conto lo prendo dopo mi sono dimenticato un prodotto vi stavo dicendo col fatto che partiamo parecchio stiamo parecchio tempo a roma insomma lasciare l'assicurazione che è carissima come tutte le assicurazioni e come tutto perché si sta sollevando veramente tutto io spero che si veda qualcosina non ho voluto accendere la luce perché ripeto ho poco tempo la mia qualità di video ultimamente sono andata rintroso un po con nei video mi sono resa conto veramente che ultimamente la mia qualità di video non è il massimo prendo un attimo i prodotti mi lavo le mani perché mi da noia mi sono resa conto veramente che tardissimo vi stavo dicendo abbiamo deciso di interrompere l'assicurazione perché veramente regalare altri soldi ne regaliamo abbastanza non ne abbiamo intenzione quindi non so quando la rifaremo ripartire senz'altro non prima di marzo quindi l'unica assicurazione che va tutto l'anno è quella del mio liberty liberty che ha tantissimi anni ma io trovo che sia una moto meravigliosa la moto nasce color panna non mi ricordo quanti anni fa mio marito mi aveva proposto di mettergli una vernice che come una specie di pellicola e un nero opaco per cercare di cambiare un po insomma il colore devo dire che mi piace comunque ho visto sto mettendo il labello ho visto i nuovi liberty non sono brutti però io tendo a preferire il mio mi ricorda quasi un modello un vintage diciamo che lo paragono un po alla 500 la nuova 500 insomma moderno perché non lo trovo assolutamente classico e la forma rimane molto più bella secondo me del nuovo ma comunque a prescindere noi ci affezioniamo a tutto non regalerei la moto perché la dovrei vendere regalandola e sinceramente la manutenzione me la fa mio marito e sono contentissima di avere il liberty lo usa tantissimo stefano e al momento noi qui abbiamo solamente una macchina ne avevamo due la mia e la toyota la mia è una lanciamusa anch'essa datata ma sinceramente come carrozzeria è perfetta ma come vi dissi in un video sarebbe andata a roma anche perché non ci sognavamo di acquistare una macchina nuova a roma perché te le distruggono quindi volevamo dare una macchina affidabile una macchina che federica appunto conoscesse perché loro hanno sempre guidato la mia macchina soprattutto da quando noi non facciamo più il lavoro di un tempo ma comunque lavoravamo anche insieme quindi non c'era questa necessità avendo loro grande e indipendenti di avere due macchine quindi io e mio marito ci spostavamo sempre insieme quindi diciamo che quella macchina la utilizzava più che altro giuseppe stefano ripeto si muove un po di più col motorino ma la guidava anche lui adesso valuteremo se acquistare appunto un usato per loro all'inizio stavo cercando la macchina diciamo la volevamo trovare subito infatti devo ringraziare se guarda il video antonella perché sei stata gentilissima nel mostrarmi tanti annunci appunto dove vendevano delle macchine e niente poi ci siamo resi conto che la stavamo scegliendo veramente con molta superficialità e alla fine abbiamo deciso di aspettare sassari insomma è una realtà non grandissima quindi rispetto a roma quindi ci si può muovere tranquillamente con i mezzi che abbiamo per giunta abbiamo qua due monopattini e uno ce l'ha sempre federica a roma perché quando aveva il lavoro vicino a casa a volte prendeva il monopattino anche se devo dire che eravamo un po preoccupati perché diciamo il monopattino non è per niente sicuro per quanto uno vada piano comunque sia non ne ho mezzo sicuro e ve lo posso dire velocizzo un attimo metto pochissimo di questo correttore io per tutti i giorni non sono molto amante del trucco pesante come avete visto nel mio canale trucchi su di me forti e pesanti non ne vedete stendo veloce questo e ci rivediamo mi sono messa gli occhiali oppure la mantita spuntata per cercare di farmi le sopracciglia penso di non aver mai corso ultimamente così ho più tempo a disposizione ma siamo sempre di corsa dobbiamo andare da ghl o di hl mi sta venendo un amnesia non mi ricordo perché un pacco di uno dei nostri figli è in ritardo diciamo che non sono un massimo della gentilezza ve l'avevo già detto una volta quindi sono certa che anche se hanno il pacco in deposito non ce lo consegnano quindi è un'andata a vuoto però tentiamo mi sono dimenticata anche i cotton fioc aspetta forse ne ho uno diciamo che oggi veramente ho fatto non si può neanche chiamare trucco comunque metto veloce il mascara io per il mascara col mascara ho un serio problema cioè ci sono dei giorni che mi piace dei giorni che non mi piace quello che uso stacco di nuovo metto un po di profumo metto questo delle perle che ricorda creed anche un po di olio questo ve l'ho mostrato un sacco di volte ho detto ho messo pochissimo prodotto e mi sta già dando noia agli occhi comunque perdonate il rumore che sto facendo nel microfono però veramente devo sbrigarmi anche perché poi dobbiamo ritornare a casa lasciare la moto dopo che abbiamo fatto appunto queste commissioni più che altro in zone un po trafficate e dobbiamo fare la spesa quindi non so se riuscirò a portare un svuota la spesa comunque mi metto tutto mi mostro velocemente e così ci salutiamo ci vediamo dopo questo è il mio look quindi ho messo il giubbottino in cotone sempre in denim al momento il maglione non l'ho voluto mettere perché ho caldo pantaloni insomma non so se riuscite a vedere ma comunque cercherò di mettere la foto dell'outfit come borsa la metterò nel bauletto ho portato lei basta io vi saluto e ci vediamo dopo scusate se non ho indossato adesso il microfono spero che si sia visto qualcosa quindi questo è il mio look vi lascerò comunque il momento dell'outfit a fine video ci vediamo più tardi eccomi sono rientrata come potete vedere sono un po infagottata allora non c'è freddissimo però dopo che abbiamo finito di fare le commissioni siamo andati al bar e non ho preso la clip del bar perché ho voluto rilassarmi con mio marito facendomi la mia colazione sacra e niente aspettate che mi slaccio non ho messo il maglione perché comunque ripeto non c'è freddo e poi ultimamente ho dei problemi di tiroide adesso mi spoglio e vi dico esattamente di cosa si tratta allora intanto mi sistemo i capelli che ovviamente ho preso umidità e pioggia perché tutto il tragitto che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con la pioggia poi siamo andati a fare la colazione siamo usciti e abbiamo preso altra pioggia quindi i miei capelli sono capelli mossi tendenzialmente crespi quindi devo per forza cercare di farli riprendere un attimino con quest'olio io comunque a casa utilizzo sempre bigodino quindi non lo metto adesso perché devo riuscire però ecco io sono abituata a rimetterlo comunque vi stavo dicendo del fatto della temperatura corporea come potete vedere ho la mezza manica avevo sopra questo giubbino in cotone però ecco io sono tendenzialmente una persona freddolosa sì ho le mani fredde i piedi li ho sempre freddi però non sto soffrendo tantissimo il freddo mi ero resa conto di questo problema prima di fare le analisi allora io la prossima settimana il 13 ho il controllo per quanto riguarda la tiroide ve l'avevo senz'altro accennato e prima di andare mi sono stati richiesti i soliti diciamo esami FT3, FT4 e TSH quindi sono andata la scorsa settimana o questa non me lo ricordo più forse la scorsa settimana sono andata a fare gli esami però io mi sentivo che c'era qualcosa che non andava perché avevo dei disturbi che normalmente non ho mai avuto come per esempio il fatto di non avere un sonno durante la notte profondo io come diciamo l'ho sempre avuto a parte da ragazzina che avevo qualche problema di insonnia c'è stato un periodo ma ultimamente io non avevo problemi di questo tipo e mi sto rendendo conto che il mio sonno non è un sonno continuativo è un sonno un po' disturbato sì per carità posso avere dei pensieri il fatto che Federica sia lontana faccia degli orari anche notturni e debba farsi di notte una quarantina di chilometri quindi può essere anche quello almeno io lo associavo al pensiero di Federica lontano oppure anche al pensiero di uno dei miei figli di notte in giro che magari ritorna tardi insomma chi è madre può capire anche mio marito ha il mio stesso problema quindi io associavo questo problema di un sonno non proprio bellissimo anche perché soprattutto mi accade quando sono qua in Sardegna quando invece sono a Roma da Federica sono più tranquilla non lo so perché quindi dormo anche meglio comunque vedevo appunto che c'era qualcosa che non andava anche il fatto delle labbra secche pelle secca soprattutto nelle gambe premesso qualcuna potrà dire visto che ho 54 anni può essere la menopausa non sono ancora in menopausa e comunque questi sbalzi ormonali mi hanno ricordato un po' l'inizio di quando ho scoperto di avere problemi di tiroide e quindi insomma mi ero resa conto che qualcosa a livello tiroideo era cambiato quando ho ritirato le analisi per quanto non siano valori eccessivamente alterati ho avuto i valori per la prima volta diversi da quelli che ho sempre avuto cioè io sono ipotiroidea o meglio ero ipotiroidea avevo la tiroidite di Hashimoto e ho anche dei noduli questa volta il TSH è risultato più basso praticamente è come se fossi diventata ipertiroidea ovviamente sono dei valori leggermente più bassi della norma e io pensavo ignorantemente che fosse un ipotiroidismo invece poi mi sono documentata perché non ho voluto disturbare il medico intanto l'avrei visto dopo una decina di giorni e mi sono documentato e ho visto che questo valore si riconosce in un ipertiroidismo ipertiroidismo che non ho mai avuto ho letto tutti i disturbi che può dare l'ipertiroidismo e sono tutti i disturbi che ho io quindi vediamo adesso il 13 che cosa mi dice io non faccio terapia con l'Eutirox da io presumo un 15 anni l'avevo fatta... no forse non lo prendo da più tempo io ho incominciato a prendere l'Eutirox a 26 anni e l'ho terminato dopo 18 anni di terapia adesso nel caso la terapia che dovrei fare non è quella con l'Eutirox a me in generale non piace prendere farmaci ovviamente se li dovessi prendere per carità se si devono prendere si prendono secondo me non mi darà una terapia farmacologica poi magari mi sbaglio adesso vedremo se mi rifarà l'ago aspirato non so niente e niente quindi ho questo problema vi ho detto di questo per dirvi che non ho freddo io tendenzialmente freddolosa e adesso le mani congelate è come se avessi la pelle la parte superiore fredda però ho proprio una poca sopportazione per il caldo non sudo quindi non è che ho sudorazioni o qualcosa del genere però ho proprio caldo anche adesso che comunque non c'è caldissimo di notte io non metto il pigiama e niente quindi ho notato proprio questo sbalzo di temperatura ripeto le mani e i piedi li ho sempre freddi però ho poca resistenza per il caldo per carità questo mi aiuta nel senso che ho sempre odiato l'inverno e queste temperature di inizio inverno proprio perché sono freddolosa tutto sommato questo è l'unico lato positivo che mi fa sentire meno il freddo comunque vi aggiornerò dopo il 13 la visita a cielo il 13 quindi sono proprio curiosa di sentire che cosa dice il mio endocrinologo poi aggiornamento unghie io sono contentissima di portare le unghie così corte perché mi sento comoda ho più manualità insomma avevo bisogno di ritornare alle unghie corte ormai le unghie corte le sto portando da due mesetti circa il mio problema è che mi piace avere l'unghia curata anche se corta la mia unghia evidentemente non regge il gel perché sono costretta a rifare il gel ogni quando mi dura tanto 5 giorni mi rendo conto che proprio esce interamente la parte infatti non mi rovina per niente le unghie non ho necessità di passare la lima ma esce proprio come se fosse un gel peel off ho provato a mettere basi ho provato a trattare l'unghia quindi a togliere la parte lucida dell'unghia ho provato a sgrassare prima di fare il gel però il risultato è sempre identico quindi siccome a me piace la mano curata e l'unghia curata ho deciso a malincuore perché mi sto un po' stufando di queste schiavitù di rimettermi le tip di portarle a una lunghezza differente dalla lunghezza originale della tip adesso devo valutare perché le tip corte quelle mi sembra forse la ballerina le ho date a federica o la ballerina o quella squadrata adesso io non mi ricordo la mandorla non me lo ricordo però le taglierò e le porterò magari non così corte leggermente più lunghe dal momento che sto mettendo le tip perché mi rendo conto che quando faccio le tip gli smalti gli stessi gel che io utilizzo durano cioè anche se mi si dovesse staccare inavvertitamente dopo un bel po' una tip non mi si toglie non mi si scalfisce minimamente il gel e io posso riapplicare tutto quindi ho l'unghia perfetta l'unica cosa che mi vincola e mi fa passare la voglia di queste tip è il fatto che avendo io una ricrescita abbastanza veloce mi si crea poi un distacco che mi fa agganciare le tip ai capelli quella è l'unica noia e anche il rimando e rimettendo la parte superiore comunque tendenzialmente mi si aggancia altrimenti le tip a me durerebbero fino a quando non cresce tutta l'unghia mi dura la tip e mi dura il gel dovendo scegliere sono per forza obbligata a riprendere a fare le tip ovviamente non le farò lunghe o perlomeno magari all'inizio le posso fare lunghe poi le riaccorcerò non lo so io ogni tanto cambio idea per quanto riguarda il gel questo di winny secondo me è ottimo la colorazione è stupenda io questo l'ho riapplicato ieri e niente appena mi si rovinerà un'unghia tanto da toglierlo lo rimuoverò tutto e metterò le tip quindi vi aggiornerò per quanto riguarda il gel me lo fanno tutti quindi non è che me lo fai il gel winny e il gel estrosa o passione unghie o altri non me lo fanno ho provato diverse basi e il risultato è sempre identico ho in mente di provare il gel che stava consigliando betty del canale semplicemente eli vi invito vi lascio magari sotto il link vi invito a seguirla lei faceva video ha iniziato a fare video quando poi avevo iniziato anche io poi ha fatto un'interruzione mi sembra di un annetto circa e adesso ha ripreso quindi io ve la segnalo vi invito a seguirla perché comunque a me piace sia lei come persona che i contenuti che porta quindi per chi la seguiva e magari non ha messo la campanella per essere avvisata con l'uscita di un nuovo video io ve la segnalo se volete andare a riseguirla a me farebbe piacere presumo anche a lei niente io adesso vi saluto mi asciugo non ho voglia di cambiarmi adesso poi tra l'altro sta uscendo il sole e usciamo per fare la spesa non so se vi porterò con me nel caso vi lascerò la clip delle cose che metteremo nel carrello passeremo alla conad per quanto a me ultimamente non piace proprio andare alla conad mi piace molto di più la lidl però qualcosina poche cose le stiamo continuando a prendere anche lì e quindi oggi passeremo lì ci vediamo più tardi ed ecco siamo alla conad abbiamo dei buoni da spendere per questo motivo che ci siamo recati qui perché come vi ho detto ultimamente la nostra spesa la facciamo si può dire tutta alla lidl quindi qua abbiamo preso patate pasta e soprattutto l'olio l'olio è diventato carissimo questo è quello che siamo riusciti a trovare in promozione sotto i 9 euro e niente questa è un inquadratura generale di quello che siamo venuti ad acquistare alla conad sono passate diverse ore sono le 4 e 5 tra poco qui da noi ci sarà già il buio mi sono allestita qui con l'ombrello e le luci di federica però avendo poco tempo faccio prima a registrare in questi pochi minuti devo preparare pochi ma degli ordini che mi sono stati fatti dovrò realizzare delle piastrine con collane però più corte personalizzate tipo queste che indosso io qua ho tutta la mia famiglia quindi mio marito l'anno di nascita dietro io e i miei figli quelle che mi hanno richiesto sono due piastrine e in collane più corte queste sono in acciaio poi ho finalmente ricevuto nuovamente le borse mi è arrivato un riassortimento di tutti i colori quindi devo preparare tre ordini adesso devo verificare le tonalità perché non me le ricordo quindi devo preparare anche questo ripeto qualcuna mi ha richiesto di preparargli queste borse come se fossero dei portachiavi da aggiungere ad altre borse adesso sta andando di moda utilizzare dei portachiavi un po ingombranti a breve ve ne farò vedere uno che mi comporrò per me poi qualora potesse piacere come articolo potrei eventualmente pensare di proporlo anche in vendita adesso valuto perché poi quando incomincio a portare tante cose soprattutto essendo io sola qua mi possono aiutare mio marito mi aiuta sempre in tutto soprattutto per le spedizioni se ne occupa lui per anche tenere questa mini contabilità se ne occupa ugualmente lui federica anche se lontano comunque collabora sempre con me anche a distanza stiamo un po cercando di dividerci questi piccoli compiti anche perché ripeto non è un lavoro che ci mantiene è una piccola soddisfazione quindi ogni tanto facciamo delle vendite ma non è un lavoro effettivo ecco è un po come youtube sì c'è un piccolo guadagno ma non può essere un lavoro ecco poi ve l'ho detto sin dal primo momento è una passione un'altra cosa che volevo dire così prima di chiudere questo blog presumo che lo chiuderò qui perché adesso mi devo ripreparare e devo fare alcune commissioni probabilmente andrò da tezenis se non avrò editato prima il video magari vi posso mettere la clip di tezenis devo vedere se c'è qualcosa che ci può interessare perché ho sempre quel buono di 8 euro per carità scada dicembre però considerando che io mi dimentico quando i buoni me li faccio scadere tutti ho in mente oggi di fare un salto da tezenis anche se il mio punto vendita preferito è quello che è in centro non è quello nel centro commerciale almeno non più però quello è quello più comodo dobbiamo fare alcune commissioni lì quindi andrò direttamente in quel centro commerciale allora mi sto rendendo conto forse ve ne avevo già parlato mi sta accadendo una cosa strana su instagram lo dico qualora ci fosse qualche ragazza che mi sta seguendo e magari può essere successo sta succedendo a lei può darmi delle dritte allora ve l'ho detto più volte il social che a me piace per il quale ho iniziato a mettermi sulla piattaforma di youtube è proprio youtube instagram e tik tok le ho messe per essere completa ma non mi piacciono come piattaforma instagram la utilizzo più che altro per tenere come ricordo foto magari delle collaborazioni però più che altro per me per la mia famiglia tik tok metto un po di tutto alla rinfusa e senz'altro non utilizzo la piattaforma come dovrebbe essere utilizzata perché comunque io di queste cose non ne capisco tantissimo quindi faccio quei gesti automatici per montare i video per registrare e via dicendo ma non sono un'esperta nel settore una cosa molto fastidiosa che mi sta capitando e non riesco a fermare riguarda instagram praticamente io ero arrivata a quasi 1700 iscritti premesso che non ho mai comprato follower non ho mai comprato visualizzazioni sono una persona lì già le regole rispettosa anche perché non ci guadagno e non ci voglio neppure spendere quello ve l'ho già detto più volte mi sto rendendo conto che sto perdendo 10 iscritti al giorno a volte mi posso fermare ultimamente per una giornata su instagram e quindi sono passata da quasi 1700 iscritti non vi so dire con esattezza perché non sono una che sta a guardare sempre gli iscritti adesso sì perché mi sta capitando questa cosa altrimenti non ci ho mai fatto caso forse ero arrivata a 1690 iscritti adesso sto scendendo sempre di più quindi perdo all'incirca una decina di iscritti al giorno ho provato a scrivere su instagram per chiedere aiuto perché ho controllato e non ho fatto delle cose che erano vietate perché poi c'è una lista e lì vedi se sei stata penalizzata per qualcosa e io quindi ho seguito tutte le linee guida e non ho infranto nessuna regola della community di instagram quindi non può essere quello vengo palesemente ignorata abbiamo guardato dei video di altre persone dove dicevano neanche delle recensioni dove dicevano che instagram non ti rispondeva assolutamente l'unico modo per avere una risposta è quello di pagare mi sembra intorno ai 15 16 euro al mese per avere l'autentificazione del profilo profilo che per me è ridicola per carità chi la vuole fare la fa non discuto su quello ma io 16 euro 15 euro me li spendo in altro modo perché ok non guadagno ma non voglio neppure regalare soldi per me inutili poi ognuno fa quello che meglio crede però io quella cifra preferisco indirizzarla verso cose che tocco con mano o verso delle esperienze come un ristorante un viaggio insomma i soldi preferisco spenderli in altro modo e poi per principio non regalo soldi prima questa cosa del profilo veniva data in automatico a profili grandi adesso invece qualsiasi profilo può pagare per avere questo simbolo per dire che che certifica che sei tu che poi non ha molto senso comunque ci sono parecchie persone che lo fanno e non discuto perché ognuno a casa propria fa ciò che vuole però ecco mi sta capitando questo di perdere parecchi iscritti e mi dà fastidio perché sono arrivata ad un punto che se scenderò oltre la soglia delle persone che seguo io toglierò le iscrizioni a chi non mi segue ma non perché non ho mai guardato chi mi seguiva chi non mi seguiva perché ci sono persone che non mi seguono io le seguo ho lasciato l'iscrizione parlo di profili piccoli però laddove mi renderò conto che mi verranno tolti degli iscritti magari non da voi ma da instagram io leverò il segui per principio perché sono una persona di principi e come nessuno regala l'iscrizione a me finirò anch'io di regalare iscrizioni gratuitamente quindi probabilmente a breve mi vedrete anche a zero perché di questo passo andando a perdere di volta in volta tutti questi iscritti che mi sono guadagnata con sacrificio e soprattutto non mi sono stati mai regalati sinceramente vedendo persone che crescono in maniera a dismisura portando anche delle foto e dei contenuti privi di significato e non belli a quel punto è chiaro che sto a notare anche altri profili che mi capitano sott'occhio quindi insomma ok che la meritocrazia non esiste però non riesco a capire dove sono entrata cioè qual è il problema che mi sta creando questo perché ripeto possono essere dei bot che mi seguivano e adesso si stanno disiscrivendo però stiamo parlando di più di 300 iscritti 350 e oltre iscritti che io sto perdendo ripeto 10 il primo periodo ne perdevo anche 20 al giorno adesso ne sto perdendo all'incirca dai 5 10 al giorno fatemi sapere se anche a voi è capitato eppure semplice curiosità non ho in mente di aprirmi momentaneamente un altro profilo instagram perché ripeto io ci sono perché mi piace tenere le mie foto e i miei ricordi quindi iscritti sì o iscritti no non mi importa quello che mi dà fastidio che magari me li stia levando instagram e non so per quale motivo forse perché mi viene chiesto spesso di sponsorizzare io non faccio nessuna sponsorizzazione ma io non faccio sponsorizzazioni per quanto riguarda il brand mio e di federica secondo voi sponsorizzo invece il profilo privato che è una una passione un album di fotografie non ci penso neppure quindi questo è l'unica cosa che vi volevo insomma della quale vi volevo parlare prima di chiudere questo vlog presumo che lo concludo qua così magari riesco a editarlo e non lo faccio diventare troppo lungo perché poi ho difficoltà nell'esportarlo niente io a questo punto vi saluto per quanto riguarda il mio outfit ve lo lascerò qua al lato quindi sono vestita in maniera come sempre sportiva e ultimamente sto sempre dando un po' di tocco di colore con questo color borgogna basta io vi saluto non so quando vedrete questo video spero di poterlo mettere al massimo domani che domenica io comunque vi auguro buon fine settimana o una buona domenica ciao a tutti